E siamo arrivati a quello che momentaneamente possiamo chiamare l'ultimo capitolo dello studio della potenza in regime sinusoidale. Perché temporaneamente? Perché lo studio della potenza e quindi degli aspetti energetici è fondamentale nello studio dell'elettrotecnica, sia per la comprensione dei fenomeni associati, sia poi per il dimensionamento dei circuiti e delle macchine che devono effettivamente operare e che sviluppano le nostre applicazioni. Vediamo in quest'ultima parte dello studio gli aspetti maggiormente operativi, cioè andando a concentrarci, a focalizzarci sulle grandezze che abbiamo definito, tra le grandezze che abbiamo definito quelle di maggiore utilità e di utilizzo continuo nell'analisi dei nostri circuiti e delle nostre applicazioni. Partiamo di nuovo dalla potenza attiva. L'abbiamo definita e indicata con il simbolo P maiuscolo e la potenza attiva è definita come la potenza media in un periodo della potenza istantanea. La potenza attiva rappresenta quella parte di energia elettrica che viene trasformata in modo irreversibile in un'altra forma di energia ed è praticamente ciò che di utile noi riusciamo a ricavare dal trasferimento di energia elettrica dal generatore verso l'utilizzatore. Per questo motivo la potenza attiva viene sempre misurata in Watt. e abbiamo anche detto che se consideriamo il generico bipolo passivo nel rispetto della convenzione dei segni, cioè con la tensione avente segno positivo dove la corrente viene indicata entrante nel bipolo allora risulta che se appunto il bipolo è passivo la potenza attiva risulta essere sempre maggiore di zero qualunque sia l'angolo di sfasamento fra la tensione V e la corrente I sia che la corrente sia in anticipo sia in ritardo sulla tensione. L'espressione della potenza P sappiamo essere V per I cos V dove V e I sono i valori efficaci della tensione e della corrente indicati per il bipolo e FI è l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente. Se rappresentiamo sul piano di Gauss la generica tensione V e la generica corrente I in questo caso in ritardo l'angolo di sfasamento FI e questo rappresenta l'angolo che il vettore I deve compiere per sovrapporsi al vettore della tensione e in questo caso risulta essere positivo. L'altro caso che si può presentare è quello dove la corrente risulta essere in anticipo sulla tensione. Rappresentiamolo in un altro piano di Gauss. Questa è la tensione V. In questo caso questa sarà la corrente I genericamente in anticipo sulla tensione e in questo caso l'angolo FI sarà questo, dove vedete in questo caso il vettore I per sovrapporsi al vettore V deve percorrere l'angolo in senso orario, quindi in questo caso l'angolo sarà negativo, l'angolo di sfasamento sarà negativo, mentre invece nel primo caso dove l'angolo FI viene percorso in senso anti-orario l'angolo FI stesso sarà positivo e abbiamo detto che la potenza attiva comunque in entrambi i casi per il bipolo passivo sarà sempre positiva. Abbiamo inoltre definito la potenza reattiva Q la cui espressione sappiamo essere V per I per il seno di FI e abbiamo già spiegato che la potenza reattiva non rappresenta una trasformazione irreversibile di energia, ma uno scambio energetico tra generatore e bipolo passivo quando il bipolo passivo presenta componenti di tipo capacitivo o induttivo, elementi che con il loro campo elettrico o campo magnetico nel corso dell'alternarsi dei semiperiodi positivi e negativi assorbono energia reattiva e la accumulano nel rispettivo campo elettrico o campo magnetico e nell'altro semiperiodo la restituiscono al generatore, quindi senza consumarla o per meglio dire senza trasformarla in un'altra forma. Per questo motivo la potenza reattiva non essendo associata a una trasformazione di energia, quindi allo sviluppo di un lavoro elettrico utile di trasformazione, non viene misurata in watt ma viene misurata in var che significa volt ampere di tipo reattivo. Ovviamente var e watt essendo sempre dati dal prodotto di una tensione per una corrente, quindi volt per ampere, sono sempre omogenei tra loro dal punto di vista dell'unità di misura, però la distinzione permane ed è importante perché concettualmente e energeticamente sono due cose fondamentalmente diverse. Un'altra particolarità della potenza reattiva Q è che a differenza della potenza attiva non assume sempre e solo valori positivi ma può assumere valori positivi e valori negativi. Vediamo i due casi, è molto semplice se osserviamo l'espressione, vediamo che l'espressione della potenza reattiva Q vede la presenza del seno dell'angolo di sfasamento fra tensione e corrente, quindi nel primo caso che abbiamo esaminato prima con la corrente in ritardo sulla tensione, quindi con un angolo F di sfasamento maggiore di 0, essendo quest'angolo F compreso tra 0, caso limite in cui la corrente è in fase, sarebbe in fase con la tensione, e angolo 90 gradi in cui la corrente si trova in quadratura in ritardo sulla tensione, in questo caso il seno ha valore positivo e quindi anche la potenza reattiva risulta positiva, quindi avremo Q maggiore di 0 se l'angolo F maggiore di 0 e compreso fra 0 e 90 gradi sessagesimali. Nel caso invece in cui la corrente I sia in anticipo sulla tensione V, quindi questo è il secondo caso rappresentato, allora l'angolo F abbiamo visto che è minore di 0, compreso fra 0 e meno 90 gradi sessagesimali, in questo caso il seno dell'angolo risulta essere negativo e quindi anche la potenza reattiva risulta negativa. Nel primo caso in cui Q è maggiore di 0 si parla di potenza reattiva induttiva. Nel caso in cui invece Q sia minore di 0 si parla di potenza reattiva capacitiva. Una considerazione che possiamo fare sul segno della potenza reattiva può essere anche sul concetto di assorbita o erogata dal bipolo. Abbiamo detto che nel bipolo passivo, nel rispetto della convenzione dei segni, abbiamo queste due possibilità. Se la potenza reattiva è maggiore di 0 significa che la potenza reattiva di tipo induttivo viene effettivamente assorbita dal bipolo, essendo positiva. Nel caso di potenza reattiva capacitiva, cioè negativa, noi potremmo leggere questo segno negativo come dovuto al fatto che il bipolo in quel caso sta erogando una potenza reattiva di tipo capacitivo. Diciamo che questa interpretazione del segno della potenza con il verso della potenza reattiva stessa, cioè assorbita dal bipolo o erogata dal bipolo, è più che altro di tipo convenzionale. Ovviamente non c'è una differenza concettuale sulle due potenze. Si tratta comunque di potenze reattive, quindi scambi energetici che il bipolo passivo ha con il resto del circuito, in particolare con almeno un generatore che è il minimo indispensabile componente per completare il nostro circuito. Proseguendo con le potenze che possono essere definite in regime sinusidale, arriviamo alla potenza apparente, indicata solitamente con la lettera S maiuscola oppure in alcuni casi anche con la lettera A maiuscola. Noi però utilizziamo e utilizzeremo il simbolo S maiuscolo. La potenza apparente viene definita dall'espressione S uguale V per I, cioè semplicemente dal prodotto dei valori efficaci della tensione e della corrente. La potenza apparente è una terza potenza, diciamo così, rispetto alle precedenti due definizioni. Per questo motivo anche per la potenza apparente viene definita un'unità di misura ancora omogenea alle precedenti VAR e Watt ma che per essere distinta prende un nome diverso ed è quello di Volt Ampere. Quindi la potenza apparente viene misurata in Volt Ampere. La potenza apparente, per l'espressione che la rappresenta, sarà sempre positiva. Ricordiamoci infatti che V e I, essendo i valori efficaci della tensione e della corrente, assumono sempre entrambi valori positivi. Ciò che fa cambiare il segno alla Q nella potenza reattiva, ricordiamoci che è il seno dell'angolo di sfasamento fra tensione e corrente. Che importanza ha o può avere questa potenza apparente ulteriore rispetto alle due precedenti? La potenza apparente è importante perché in qualche modo rappresenta l'intensità dell'impegno energetico che una macchina elettrica oppure una linea elettrica subisce e quindi è fondamentale nella fase di progettazione e dimensionamento sia della macchina elettrica che della linea elettrica. Perché il valore della tensione, quindi il valore efficace V in qualche modo rappresenta lo sforzo dal punto di vista degli isolamenti e dei circuiti magnetici che compongono la nostra macchina elettrica. Mentre invece la corrente rappresenta in qualche modo il carico che grava sui conduttori che devono essere percorsi da quella corrente e che quindi devono avere sezioni adeguate a trasportarla per ridurre le perdite e per diminuire le temperature che vengono raggiunte dai conduttori stessi. L'ultima potenza che possiamo definire è la potenza complessa La potenza complessa viene di solito rappresentata con lo stesso simbolo della potenza apparente ma vedremo che si tratta di una potenza appunto come dice il suo nome è complessa quindi rappresentata da un numero complesso e quindi distinta dalla soprallineatura che accompagna il suo simbolo S e la definizione di potenza complessa è data in questo caso dal prodotto vettoriale della tensione V per il complesso coniugato della corrente I in particolare sto parlando dei due fasori quindi nella definizione di potenza complessa compare il prodotto vettoriale di V per il coniugato di I che cosa è il coniugato di un numero complesso? Il coniugato di I non è altro che il fasore o il numero complesso I con la parte immaginaria cambiata di segno quindi se la I come numero complesso è rappresentata da una parte reale più J una parte immaginaria allora il complesso coniugato di I I asterisco sarà uguale avrà la stessa parte reale A ma la parte immaginaria cambiata di segno e questo è il complesso coniugato se utilizzando il complesso coniugato e utilizziamo le regole per il calcolo del prodotto fra numeri complessi sviluppando questo prodotto è facile arrivare al risultato finale che vede la potenza complessa avere una parte reale essere pari alla potenza attiva e una parte immaginaria essere pari alla potenza reattiva e questa come abbiamo detto rappresenta la potenza complessa in qualche modo la potenza complessa unifica e congiunge fra di loro i tre termini delle potenze definite in precedenza vediamo facilmente come riscriviamo l'espressione della potenza complessa per averla sotto gli occhi e analizzarla più facilmente quindi la potenza complessa parte reale uguale alla potenza attiva e parte immaginaria uguale alla potenza reattiva Q a questo punto possiamo andarla a rappresentare su il piano di Gauss come tutti i numeri complessi quindi se rappresentiamo la potenza attiva che è la parte reale ovviamente sull'asse dei reali P la potenza reattiva Q sull'asse degli immaginari dovendole poi sommare faccio direttamente un punto a coda sul piano di Gauss quindi la potenza reattiva Q senza la soprallineatura la potenza reattiva Q l'asposto diciamo alla punta del vettore rappresentativo della potenza attiva P in questo sediamo questa rappresentazione la potenza complessa S risulta essere semplicemente la risultante della somma della potenza attiva pensata come parte reale della S e della parte immaginaria pari alla potenza reattiva l'angolo che si forma nel triangolo rettangolo qui non è altro che l'angolo Phi che rappresenta l'angolo di sfasamento che abbiamo visto prima fra la tensione e la corrente che stanno determinando queste potenze l'ultimo tassello è la potenza apparente la potenza apparente S non è altro che il modulo della potenza complessa S quindi S come potenza attiva non è altro che il modulo della potenza complessa S e quindi essendone il modulo l'abbiamo già visto precedentemente che sarà sempre maggiore di zero la potenza complessa ovviamente può avere questa rappresentazione grafica nel caso in cui la potenza Q sia di tipo induttiva oppure se la potenza Q è di tipo capacitiva e cioè è minore di zero ci troveremo in un caso di questo tipo la potenza P è sempre la componente reale e la potenza Q in questo caso sarà negativa quindi rivolta verso il basso Q capacitiva e la potenza complessa sarà in questo caso rappresentata da questo vettore S con l'angolo di sfasamento in questo caso FI minore di zero mentre qua era FI maggiore di zero queste definizioni di potenza attiva reattiva apparente e complessa sono quelle di maggiore utilità nello studio e nell'analisi dei circuiti delle applicazioni in regime sinusoidali e saranno quelle che effettivamente utilizzeremo e che si utilizzano mentre invece la loro rappresentazione nel tempo cioè la potenza istantanee che abbiamo definito nelle lezioni precedenti potenze istantanee in generale poi nelle due componenti attiva e reattiva sono fondamentali per la comprensione dei fenomeni ma di scarsa utilità dell'utilizzo pratico perché come al solito le rappresentazioni nel tempo determinano una difficoltà risolutiva che non giustifica il loro utilizzo e che invece giustifica l'utilizzo delle grandezze appena definite per la loro efficacia per la loro attività